Policastro Bussentino, con noi c'è il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato perché è recente la notizia di ieri che il Tribunale del Riesame di Potenza ha dissequestrato il porto di Policastro. Sì, una notizia molto importante per me ma soprattutto per la comunità che ho l'onore di rappresentare. Il porto rappresenta il volano essenziale dello sviluppo di questa comunità. Sul porto ci lavorano tante persone, tanti operai. Sul porto una volta completato ci saranno altre opportunità di lavoro. Quindi il volano essenziale per lo sviluppo della nostra terra ma dell'intero Golfo di Policastro. Un porto all'avanguardia. Quindi voglio ringraziare la magistratura che ha accolto le nostre riflessioni, le nostre perplessità, ha accolto i dubbi sul sequestro. Perché per quanto ci riguarda l'amministrazione ha l'interesse di realizzare questa opera a norma e regola d'arte e far rispettare tutto. L'impresa deve rispettare il progetto regolamento approvato dagli organi competenti. Ricordo a me stesso che qui è stato dato in carico da parte del Comune proprio per stare tranquilli all'università, partenere dal professore universitario, luminare su questo settore, di monitorare sia prima del dragaggio che durante il dragaggio la qualità della sabbia e del materiale che vengono dragate. Quindi proprio ci siamo sempre preoccupati per la salute pubblica e per la qualità della sabbia che viene dragata. Puntualmente sia in precedenza, durante gli studi, ma anche successivamente qualche giorno fa, le analisi fatte dall'università sono positive. Nel senso che la cittadinanza può stare tranquilla perché la sabbia è la sabbia che abbiamo preso stesso nel porto, non è che la portiamo da altre parti, zona industriale, zona inquinata. Quindi è la sabbia che è entrata con le corrende nel porto e la stessa sabbia viene messa nel muro di sottoflutto e di sopraflutto in modo tale che il mare ti dà e tu glielo ritorni la sabbia. Questo è il concetto che diciamo anche l'armativa vuole, che quello che ti dà la sabbia tu la devi restituire in modo tale c'è l'equilibrio naturale. Quindi un grande soddisfazione. La cosa che è dispiaciuto molto è che per colpa di qualche solito noto, i signor Ottini che fanno ricorso anonimo e non hanno fatto una denuncia alla procura nel mese di maggio, che è attivato tutta questa procedura e poi purtroppo si è verificato il sequestro. Il sequestro che puntualmente è stato dissequestrato perché noi la parte messa in discussione è il muro di sottoflutto che io puntualmente come autorità sanitaria, come sindaco, ho interdetto quell'area in attesa di puntuale verifiche della qualità delle sabbie. Nel frattempo l'Università già sta verificando che la sabbia sono buona e quindi assicuro che anche quella zona che adesso è interdetta i lavori, anche il direttore del lavoro ha interdetto quell'area per l'esecuzione dei lavori in attesa di più approfonditi controlli e verifiche. Stiamo controllando, stiamo verificando e voglio ancora aggiungere che se c'è qualche ingombrante buttato in ogni porto, sfido che in ogni porto al mondo, anche in Italia ma in tutto il mondo, esiste purtroppo a me chi ha buttato una bottiglia di plastica, di vetro, chi ha buttato un copertone, così si vuol dire perché l'attività di portistica porta anche a queste cose, chi ha buttato una cima, una fune nel mare, quindi inevitabilmente, forse questo è il porto più pulito al mondo, quindi inevitabilmente ci sarà o c'è stato e ci sarà ancora questi corpi soldi che non sono inquinanti, sono ingombranti che vanno selezionati, che noi puntualmente, assolutamente abbiamo detto all'impresa, alla direzione lavora, responsabile, che questi elementi e scorpi estranei alla sabbia vanno chiaramente selezionati come stanno facendo e portati a discarica autorizzata. Questo è quello che stiamo facendo, questo è quello che dobbiamo fare e chiederò per eccesso di zelo e soprattutto parliamo di un'opera fondamentale, importante, vogliamo che quest'opera finalmente si completi perché rappresenta una delle infrastrutture fondamentali del sud Italia, questo porto può essere soffritto tutto dal potentino, possono attraccare barche, possono andare all'isola Eole, quindi è una grande opportunità, quindi io chiedo a tutte le istituzioni che vivono il territorio, che noi l'interesse nostro è quello di far crescere il territorio, la finalità di fare il bene comune, l'interesse di tutti, chiaramente non ci possiamo far deviare di chi è invidioso, frustrato, esistenziale, che fa ricorse puntualmente per bloccare lo sviluppo perché è invidioso che il territorio cresce, probabilmente loro hanno un proprio stipendio e quindi non hanno problemi di sopravvivenza e preferiscono che i giovani e anche i non giovani migrano in modo da loro restano a fare i soldi, signor Ottini, con quattro soldi in tasca. Noi non siamo così, noi vogliamo che la nostra terra si sviluppi, noi vogliamo che tutti abbiano la possibilità di lavorare e il porto è un volano, è un'infrastruttura fondamentale per la realizzazione della città del futuro, quindi tranquillizzo che in tempi brevi il porto sarà completato, inizieremo subito, dopo il dissequesto che penso avverrà in questi giorni, spero anche stesso questo giorno, di fare una pianificazione, fare un incontro con tutta la direzione, l'impresa e il RUP come amministrazione e chiediamo con forza di accelerare i lavori, di fare la nomina d'acqua e di tutelare ovviamente la salute pubblica e di monitorare l'università, il campionamento durante l'esecuzione per verificare puntualmente la salubrità del materiale che viene estratto. Ovviamente questa è una grande soddisfazione, invito ai cittadini a guardare con sospetto i soldi signorotti perché vogliono uccidere l'amministrazione ma lo sviluppo di questo territorio e quindi vogliono uccidere il futuro dei nostri figli. Queste persone purtroppo vanno combattute con idee ma anche marginate perché sono contro tutte e contro loro stessi inevitabilmente. È successo con il cineteatro, è successo con il convento, è successo con l'impianto sportivo, lo stadio, è successo con la strada della panoramica, è successo con la strada della variante al 100 soldi. Non esiste un'opera che non ha avuto denunce e ricorse da questi soldi signorotti in modo anonimo o personalmente che hanno sottoscritto per bloccare lo sviluppo. Poi paradossalmente gli stessi autori, i signorottini, usufruiscono del porto, usufruiscono dell'impianto sportivo, usufruiscono del cineteatro ed è giusto che lo usufruiscono perché loro fanno parte di questa cittadinanza. Ma io faccio un appello anche a loro che le loro devianze vengono un po' assorbite da una serenità interiore che li può giustificare in modo tale che guardano anche il bene delle proprie figlie perché fare il porto, fare un'altra opera significa il bene di tutti e anche dei loro figli. Quindi faccio un appello a questi deviati ipocriti di stare sereni, tranquilli perché lo sviluppo e la città dei futuri è anche loro. Naturalmente la costruzione del porto porterà anche un incremento di lavoro per i cittadini di Policastro e di Santa Marina. Assolutamente, ma non solo di Santa Marina e di Policastro porteranno un momento occupazionale diretto, ma in modo interetto sarà un grande albergo di 500-600 persone perché attraccheranno barche significative e quindi la gente dormita, quindi sarà un altro albergo fondamentale il porto, quindi porterà lavoro alle attività produttive, alla ristorazione, porterà lavoro a tutte le attività turistiche connesse, ma anche direttamente ci sarà completato il porto, momento occupazionale molto più consistente di quello attuale. Quindi opportunità di lavoro diretto e interetto. Questo il Sud deve fare, questo noi stiamo facendo e sono anni che noi ci stiamo battendo per costruire la città dei futuri, per costruire un sogno, per ridare una dignità e una terra mortificata, umiliata da incapaci, da migliori di occhi, dai signorottini che hanno bloccato lo sviluppo per problemi esistenziali e per problemi personali, per devianza personale. Noi siamo del popolo, vogliamo che il popolo possa crescere e chiedo, faccio l'appello a tutti gli altri amministratori che si possano impegnare affinché questa terra nostra non muoia più, perché ci stiamo spopolando, il nostro nemico sarà lo spopolamento. Quindi a tutte le istituzioni, insieme, in sinergia, per completare questo grande progetto che porta occupazione, sviluppo e benessere di tutti. Nell'onestà, nella trasparenza, nella correttezza amministrativa che ci assente con da destino, come l'abbiamo dimostrato in questi dieci anni, che puntualmente ricorse e straricorse, deviati e non deviati, hanno puntualmente dato ragione all'amministrazione che è operato sempre nell'interesse pubblico, nella finalità del bene comune e soprattutto nella trasparenza e nella legalità. Grazie.